Il nostro mestiere non è quello dello scrittore. Lo scrittore si prende il suo tempo, scrive, fa un lavoro che se non è un polemista o un saggista è avulso dal tempo. Lui deve pensare, inventare storie, far ragionare, far emozionare. Noi facciamo un mestiere molto più complicato probabilmente, che è un mestiere legato alla cronaca. Cioè siamo vincolati all'evento e parlare subito dopo un evento è sempre molto difficile perché manca la freddezza del giudizio. Io ci provo, nei limiti del possibile, ad avere una linea di coerenza che non sempre si riesce a tenere perché poi gli eventi sono contraddittori tra loro. Se c'è un allenatore e una squadra che ti fa fare brutte figure è sicuramente il Napoli di Gattuso perché non lo prendi né per la testa né per la coda. Un giorno bene, un giorno malissimo. Alterna prestazioni incoraggianti con prestazioni devastanti per quanto sono pessime. Io avevo detto, e non perché voglio arrogarmi nessun merito, perché l'avevo detto, non mi interessa proprio niente. Tanto nel mondo dei social l'unica cosa che conta è il massacro sistematico di chi ha un microfono. Ho una penna per scrivere. Quindi ormai non mi interessa proprio più sapere qual è il vostro giudizio. Tranne di quelli che stimo davvero. Quelli sì che mi arricchiscono. Il punto è che ho detto, e ci sono le esegistazioni, non sono entusiasta della vittoria di Cagliari. Lo dissi subito dopo la partita. Perché, aggiunsi, una rondine non fa primavera. Cioè, se Napoli dimostra di aver trovato una quadra tattica e di essere capace di avere continuità e di avere una sua solidità nel tempo, allora questa vittoria è davvero importante. Ma, e aggiunsi, non pensiate che lo Spezia, squadra di piccolo cabotaggio che viene per la prima volta in Serie A, che certamente non ha nomi altisonanti, qualcuno è quasi irripetibile, non è sconosciuto, ha un centravanti questo nzolà che è invece un signor giocatore che nessuno conosceva. Ebbè, però lo Spezia si è mostrato squadra rognosa fino ad oggi. Ha dato, ha fatto vedere i sorciverdi a tanti, se non a tutti. E italiano, l'allenatore dello Spezia, che si è fatto con la gavetta, cioè lui non è un privilegiato che si siede sulla panchina della Juve senza aver mai allenato un giorno. O uno come Rino Gattuso, che con un anno e mezzo di Serie A è diventato il Vate all'improvviso. Io ho sempre detto, ho stima dell'uomo, spero di stimare l'allenatore, perché è un allenatore che si deve fare, è una scommessa del Napoli, a cui serviva un uomo che svegliasse lo spogliatoio dopo l'incredibile faccenda dell'ammutinamento, dove c'è stato un allenatore che ha lasciato la squadra lì e se ne è andato in albergo, ricordiamocelo sempre, però come allenatore deve dimostrare. Aspettiamolo. Non lo abbiamo fatto per Benitez, non lo abbiamo fatto per Ancelotti, perché là non c'era niente da aspettare. Erano due allenatori fatti, strafatti, conosciutissimi, notissimi, super vincenti e là bisognava solo giudicare se il loro lavoro era buono a Napoli o non era buono. A me della loro bacheca di trofei non me ne frega proprio niente, io vedo quello che fanno a Napoli. Cattuso invece andava aspettato perché non era un allenatore fatto e non è una diminuzione, è un dato di fatto oggettivo, è un allenatore. Ho sempre detto tifo per lui affinché il Napoli faccia bene, perché se fa bene lui vuol dire che ha fatto bene il Napoli. Però ho lanciato l'allarme molti mesi fa quando ho visto quel tiki-taki-toki-tuki-tuki-tiki-taki-teki-toki sterile, inutile, che non serviva a niente, giocando all'indietro. Ogni tanto qualche bagliore di verticalizzazione o di ritmo, ma è molti mesi che vedo un Napoli. A mio giudizio, come principi di gioco, per nulla convincente. E quindi dopo il Cagliari avevo detto, visto che viene lo Spezia, che è un banco di prova di quello che ti mette una bella linea di pullman davanti alla porta, anzi lo Spezia ha giocato fin troppo, si è preso anche troppi rischi dal mio punto di vista, ha giocato troppo poco la palla sul centroavanti, visto che un paio di volte si è fatto rubare la palla addirittura il portiere a un certo punto. Lo Spezia era il banco di prova per capire se il Napoli avesse trovato il Grimaldello, la chiave tattica, per attaccare le difese schierate. Se il Napoli, dopo Cagliari, avesse dimostrato di saper attaccare una difesa schierata di una che si deve difendere, ecco che il cuore si apriva alla speranza. Speranza che oggi è diventata quasi euforia, perché a un certo punto vediamo l'Inter perdere. E voi capite che stasera, se per caso esce un pareggio a San Siro, e quindi con Milan, Inter e Juve, che perdono punti tutte e tre, il Napoli battendo semplicemente lo Spezia, scusate, Spezia, non il Real Madrid, tornava, stasera sarebbe tornato prepotentemente in corsa per lo scudetto, udite, udite. Stasera invece assistiamo al punto di non ritorno. Io cito dati oggettivi. Il Napoli, in quindici partite, cinque sconfitte, un terzo, terza sconfitta in casa, su otto partite, e un pareggio, che è quasi una sconfitta, se non peggio, quello col Torino salvato da insignie, che oggi è sul banco degli accusati per i gol sbagliati, all'ultimo minuto. Cioè, tre sconfitte e mezza. Pensate che il Napoli si avesse battuto semplicemente Torino e Spezia. Torino che stava ultimo, e Spezia, che è una squadra che si deve solo salvare, ma è un miracolo se si salva. Ebbene, con cinque punti in più sarebbe a pari della Roma. E sarebbe a pochissimo dalla vetta. era chiedere troppo a Gattuso e i suoi ragazzi. Questo? Ma stasera siamo arrivati all'incredibile che il Napoli va in vantaggio contro lo Spezia, si fa raggiungere per un rigore cretino, che più cretino non si può, per una palla, cioè, non c'era nessun pericolo, non si capisce proprio perché Fabian debba fare un fallo del genere, alle spalle, andare addosso al calciatore, e basta temporeggiare, basta ragionare, un minimo di briciolo di cervello per uno che gioca nella nazionale spagnola ed è considerato il gioiello di questa nazionale. E dopo Spezia in dieci la perde. Cambi cervellotici. E io l'ho detto in radio, non l'ho detto ora, l'ho detto prima, non mi convince Lozano centroavanti, non mi convince, non si cambia una squadra che vince. Lozano a destra è devastante, Petagna in signe, a Cagliari l'hanno fatto bene, ripeti, sta per tornare Mertens, dopo Simen, ripeti, ti sei riportato Jorrente in panchina come alternativa a Petagna, ripeti, no, cervellotiche scelte, esce Zielischi e rimane Fabiano in campo. Ho visto cose che voi umani in Blade Runner si diceva questa cosa. È una roba assurda. Allora, qui non si tratta più di mettere sulla craticola il tecnico che mi prende in giro un'amabile signora di Roma che ogni tanto tira fuori la craticola. No, no, qua stiamo proprio sulla brace. Se non ci fosse la supercoppa del 20 gennaio, io stasera vorrei l'esonero siccati simplicite Icet nunc di Rino Gattuso. Perché questa squadra lo dobbiamo dire chiaramente è uno sperpetuo. Cinque sconfitte su 15 partite. Ha perso in casa in campionato con Sassuolo, Milan, Spezzi è pareggiato con Torino ma ha perso pure con la Zedalcmar. Mediocre squadra olandese che noi l'abbiamo magnificata come grande squadra e stavamo per perdere pure con le altre società. Ci ha salvato Spina in quell'occasione. Diciamocelo chiaramente. Questa squadra oggi, questa sera facendo le cose normali, normali, battere il Torino e battere lo Spezia si giocava il campionato da scudetto. Cioè la lotta, la corsa allo scudetto. Invece questa sera abbiamo assistito a un'ennesima prova indecente con un allenatore che non ci ha capito niente. Vogliamo continuare così? A Napoli siamo masochisti, continuiamo a farci del male.